Buona giornata amici da Massimo Fughetti, oggi è 23 marzo 2022, mercoledì, siamo nel mezzo della settimana ed è una bellissima giornata, il sole splende su quasi tutta la regione, poi vedremo anche le previsioni del tempo, ma intanto questa mattina iniziamo col portarvi a conoscenza di un santo per noi poco conosciuto, si tratta di Santuribio de Mongrevio, un santo spagnolo che operò molto in America Latina, è nato in Spagna nel 1538, dopo essere stato nominato vescovo, Filippo II, il re di Spagna, lo inveò in Perù affinché aiutasse gli Indos che in quel momento lo stesso sovrano aveva avuto coscienza che questa popolazione fosse sfruttata dai conquistadores, ovvero dai propri cittadini. Turibio studiò la loro lingua, assunse questo incarico con grande diligenza, studiò la loro lingua il Quechua, poi convocò un concilio generale per l'America Latina, riformò l'amministrazione e i costumi, fondò il seminario di Lima e si preoccupò che le case degli Indos avessero almeno gli strumenti elementari per una vita dignitosa, quali una tavola per il pranzo e un letto per dormire. Girò instancabilmente il Perù, visitò tutte le comunità Indios, propagò la fede cattolica finché morì nel 1606. Santuribio de Mongrevio, dunque un santo per quanto riguarda le popolazioni sottomesse appunto schiavizzate in quel periodo dai conquistadores. Vediamo ora le previsioni del tempo, giriamo la grafica e vediamo che il tempo ancora oggi si mantiene solleggiato su tutte le marche, un clima diurno mite, valori massimi fino a 17 gradi, insomma sta arrivando la primavera. Venti deboli o moderati, il mare è poco mosso, sulle coste i venti ispireranno da una direzione di nord-ovest, dell'interno invece da nord-nord-est. Il sole è sorto alle 6.06 e tramonterà alle 18.24. Apriamo oggi il resto del Carlino sulla pagina di Fano per vedere la notizia di apertura. Ebbene, la notizia è quella di un ritardo che stavolta non è colpa del Comune, è colpa un po' dei problemi per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori pubblici, il sistema appunto di organizzazione dei lavori pubblici, per quanto riguarda la nuova caserma dei Vigili del Fuoco che dovrebbe sorgere nella periferia di Fano a Chiaruccia. Nuova caserma dei Vigili del Fuoco si riparte dal via, serve probabilmente un'altra gara. Che cosa è accaduto? È accaduto che questo progetto, ormai finanziato, finanziato, ormai completato in tutti i suoi elementi, in tutto il suo percorso burocratico, subisce un'altra sosta. Perché? Perché la ditta che ha avuto in concessione i lavori, ha vinto la gara d'appalto, cosa ha fatto? Per la lunga pausa che ha subito questo progetto, da quando è stata avanzata l'offerta in denaro per la realizzazione dei lavori, è passato molto tempo e i prezzi si sono elevati. E quindi la ditta vuole 600 mila euro in più, ma il Comune ovviamente non può darli. La bolla prezzi sta gonfiando, il mercato tra Covid e guerre ha subito delle profonde trasformazioni ed ora la situazione è impasse. La ditta non vuole procedere perché dice che non ci sta più nei prezzi, ma il Comune non può sopperire, a meno che il Ministero degli Interni, che ha concesso il finanziamento per questa nuova struttura, molto molto importante per Fano, i vigili del fuoco sono sistemati in una situazione precaria, ormai la vecchia caserma di via Roma non serve più allo scopo, ebbene subisce un impastico a meno che il Governo non supplisca questa differenza di prezzo. I lavori per la costruzione sulla base operativa dei pompieri alle spalle del Codma ancora al palo, afferma il resto del Carlino. E poi il giornale parla del caro bollette, non solo quello delle famiglie, ma anche quello delle istituzioni, dei Comuni. Il Sindaco, i soldi non sono stati tolti al momento e nessun capitolo di spesa è stato variato, ma bisognerà razionalizzare perché i costi aumentano anche per il Comune. Pensate al riscaldamento, ai carburanti, insomma tutte le bollette che la famiglia paga e pagano anche le istituzioni. Vivere nell'ex convento con un torchio in salotto. È un articolo questo che evidenzia come il giornalista Silvano Clapis ci conduce all'interno della casa di Giovanni Piccini, 44 anni, stampatore e incisore, apre le porte del suo atelier studio nel chiostro delle Benedettine, in pieno centro. Vedete che belle fotografie e come lui lavora, fa queste stampe d'arte, una grafica d'arte nel suo studio, nella sua abitazione del monastero. E poi qui abbiamo un incidente che si è svolto ieri nell'autostrada 14, Trafano e Marotta. Una Opel Corsa ha tamponato un camion che la precedeva, si tratta di un trasporto speciale. La donna non si è accorta di qualcosa che pendeva appunto dall'auto, ma era opportunamente segnalata, è andata a sbattere contro e quindi si è ferita seriamente, tanto che ha dovuto essere trasportata in eliambulanza all'ospedale regionale di Ancona. Sono intervenuti ovviamente il 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e l'auto è stata trovata in un ammasso di rovine, tanto che si temeva per la vita stessa della sua autista, della donna. Entro aprile 3,7 milioni di asfalti. La mappa delle vie e delle strade viene pubblicata oggi dal resto del Carlino per quanto riguarda Fano. Entro fine aprile partiranno i lavori di una prima tranche di asfaltature per questo considerevole importo. I lavori sono stati già giudicati, tra l'altro è un pool di ditte del nostro territorio e questo, ha detto il Sindaco, mi fa molto piacere. Ieri mattina in Comune c'è stata una riunione tra assessori e tecnici per progettare anche un secondo stralcio di interventi per altri 2 milioni di euro, quindi un intervento considerevole che l'amministrazione comunale fa per curare la manutenzione delle strade, manutenzione che ha bisogno di molti molti interventi, dato che gli asfalti nella città di Fano sono molto rovinati. Il Carlino pubblica anche l'elenco delle vie, è troppo lungo oggi, non riesco a riassumerlo e quindi vi invito a leggere l'articolo. Ed ora passiamo a terre roveresche dove si parla della lottizzazione dell'area dell'ex fornace, dove verranno realizzate delle villette, si va verso un piano di lottizzazione per la futura costruzione di mono e bifamiliari, di casette mono e bifamiliari, quindi delle villette in questa area degradata. L'area è di 170 mila metri quadrati, il verde comunque resterà predominante perché la parte edificabile è di solo 38 mila metri quadrati. Ad Urbino, Ateneo a tutto gas, arrivano tre maxi auto e le aule. Le ha annunciate il magnifico rettore Giorgio Calcagnini dell'Università di Urbino. Sorgeranno nella zona del Petricio, compresa tra via Santa Annunziata e via 420. Serviranno non per un settore specifico della Università, ma saranno al servizio di tutti i dipartimenti. Verranno utilizzate secondo le esigenze didattiche dell'Ateneo. Più avanti, sopra a quelle, verrà realizzato un secondo piano e quindi ancora nuovi spazi per gli studenti urbinati. Alunni e docenti si dedicano al verde, 15 piante nell'orto didattico, 15 nuovi alberi da frutto cresceranno nell'orto didattico di Medi ed Elementari del Borgo di Gallo, insomma un borgo vicino a Urbino. Ed ora guardate questa bella fotografia. È un fiore della terra, un fiore tra virgolette, il tartufo. Purtroppo la guerra che è scoppiata tra Ucraina e Russia congela anche le vendite dei tartufi, perché il tartufo è considerato un bene di lusso e con le sanzioni che hanno precluso la vendita di beni di lusso appunto nei confronti della Russia, su cui le esportazioni italiane erano particolarmente considerevoli, ebbene anche questo danneggia i tartufai del nostro territorio. Quello che viene definito il diamante della tavola è considerato a tutti gli effetti un bene di lusso e la scelta di impedire con le sanzioni dell'Unione Europea per la guerra in Ucraina le vendite dei prodotti sopra il valore di 300 euro all'articolo va a colpire anche questo prodotto. Secondo l'analisi della Col di Retti su dati istat, nel 2021 le esportazioni di tartufo italiano in Russia avevano subito un aumento del 53 per cento per un valore di 30,2 milioni di euro e queste sono una ricchezza che al momento verrà soppressa. Piste del Catria, la procura indaga tecnici e ditta. Sono sei le persone accusate di deturpamento dell'habitat, ma il consulente del GIP scrive costruito meno di quanto autorizzato. C'è un'inchiesta per quanto riguarda quello che è stato fatto sulle colle sul Monte Catria. Sono stati abbattuti tre ettari di faggeto per fare una pista. Gli inquisiti sono tecnici pubblici della ditta costruttrice e anche il direttore dei lavori. La procura di Urbino ha ipotizzato nei loro confronti violazioni alle norme urbanistiche ed ambientali oltre al reato tipico per i casi del genere, ovvero la distruzione e la compromissione di un habitat all'interno di un sito protetto. Insomma le indagini in questo caso proseguono. È stato fatto un taglio di 30 mila metri quadrati di faggi. Una serie di associazioni ambientaliste ha presentato ricorso nei confronti di questa azione incisiva per quanto riguarda l'ambiente. Primavera covid free. Buoni i segnali del turismo nell'entroterra. Questi primi giorni di primavera fanno sperare in una rinascita dei spostamenti e quindi delle vacanze nel nostro territorio. Il nostro territorio poi fiorisce con la bella stagione. Il colore bruno dell'inverno c'è del posto al verde e poi piano piano al giallo oro dell'estate. Allentamento delle restrizioni. Primavera ormai partita. Le condizioni per una buona primavera per buoni numeri. Insomma ci sono tutte e l'entroterra urbana in modo particolare si attrezza per attirare turisti. Vediamo anche le pagine di Pesaro. Ecco sfogliamo il giornale. Vediamo come le aperture sono dedicate alla scuola Chiara Lubic in via Nitti dove nei pressi sono scopiate delle bombe, delle pseudobombe. Comunque un episodio inqualificabile che ha determinato anche paura nei bambini che vanno a scuola. Mamma io non voglio andare in classe. La paura corre tra i banchi delle elementari e il giornale compie un viaggio davanti all'istituto di via Nitti dove anche i genitori non nascondono la loro preoccupazione dopo le esplosioni di lunedì. Ai bambini abbiamo detto di non raccogliere nulla ma servono controlli hanno detto i genitori e c'è chi è sicuro che sia stata una ragazzata. Qui vediamo alcune mamme, alcuni ragazzi che vengono intervistati dal giornale. Comunque c'è veramente una seria preoccupazione per come anche se fosse stata una banda di ragazzini si ecceda nei confronti poi di questi atti di violenza, di manifestazioni eversive. Doppia esplosione davanti alla scuola, i sospetti su un gruppo di ragazzini, gli inquirenti sono sulle tracce dei responsabili e vedremo se poi verranno identificati. Anche un posto di lavoro ai profughi ucraini faremo corsi per occuparli nella ospitalità, è un'idea della Confcommercio. Ieri ne ha parlato il direttore provinciale Amerigo Varotti. Se ci saranno richieste potremmo partire anche dalla prima settimana di aprile, ha detto il rappresentante di categoria. Intanto sono 11 gli alberghi che hanno dato la loro disponibilità all'accoglienza, ma nessuno sa quale sarà la consistenza dei flutti. Ancora il territorio riesce tranquillamente a recepire appunto questo nuovo flusso che giunge dall'est dell'Europa, però se poi aumenta insomma non si sa come si andrà a parare. Sconto benzina? Ebbene, è una presa in giro. Troppo pochi i centesimi che sono stati approvati dal Governo per così contemperare gli aumenti che si stanno verificando in questi giorni. Il decreto del Governo ha abbassato per 30 giorni i prezzi e da 2,35 a un massimo di 1,77 al litro. I gestori commentano solo un contentino, ma commentano con espressioni più forti anche i consumatori di questo prodotto, ovvero gli automobilisti. Il problema dovrebbe essere risolto alla radice, non è possibile pagare accise che sono state emesse nel 1935 e ancora oggi sono in vigore. dovevano essere temporane per finanziare questa o quella situazione, in realtà poi sono state sempre mantenute, perché poi quando il Governo mette una tassa difficilmente riesce a toglierla. La diminuzione questa volta è giustissima, dicono gli automobilisti, speriamo che non duri un mese solo e basta, speriamo che duri anche di più, ma comunque qualche centesimo in più non guasterebbe. Rotonda di largo tre martiri, assegnati i lavori e c'è l'ok per 4 km di ciclabile. Ieri c'è stato il passaggio in giunta, ne ha parlato anche l'assessore Enzo Belloni. Il progetto definitivo per la pista tra Catabrighe e Vismara è stato appunto approvato, poi c'è in ballo anche la rotatoria di via Paganini. L'intervento per il nuovo rondò vale 400 mila euro. Sarà la ditta Pratelli di Urbino a realizzare l'opera, quindi nuove infrastrutture a Pesaro per definire una viabilità più sicura e più agevole. L'agricoltura è donna, eletta Sabina Pesci. Per la prima volta la CIA provinciale, l'organizzazione di categoria che tutela gli agricoltori, ha una presidentessa. Il 40% delle nostre aziende agricole è a guida femminile, ha dichiarato. E quindi la presidentessa, la neopresidente Pesci, la vediamo qui nella fotografia, insomma rappresenta giustamente quello che è un po' la configurazione delle imprenditrici del nostro territorio, della nostra provincia. E poi vediamo qui un articolo che riguarda un giovane agricoltore, Matteo, un contadino di 25 anni. Gli altri uscivano, io ero a zappare, ha dichiarato. È la storia di un giovane pesarese che ha scelto la terra per il suo futuro dopo aver frequentato le scuole superiori. Ho subito comprato un piccolo terreno e sono arrivati i primi clienti. Ha detto, ora lavoro per il campo base. Ebbene, un ragazzo che ha avuto le idee chiare per quanto riguarda il suo futuro. E ora parliamo del FAI. Parliamo del FAI per le giornate di primavera. Tour d'arte nella villa di Meuccia Severi. Il FAI apre le porte della sua casa-museo. La residenza a Monte Granaro, a Pesaro, dell'imprenditrice e collezionista scomparsa nel 2019. È una delle destinazioni delle giornate di primavera, insieme a Villa Montani. La pieve vecchia di Ginestreto è quella di Candelara. Insomma, sono alcuni beni artistici, alcuni beni architettonici di grande importanza, non molto conosciuti, Villa Meuccia Severi, per esempio, è una villa privata, quindi pochi hanno potuto entrarvi. Ora invece si potrà vedere questa bella collezione di tante opere d'arte che sono all'interno della statua. Pensate, c'è un tesoro nascosto. Ci sono addirittura quadri di Giorgio De Chirico, di Mario Sironi, di Filippo De Pisis e poi ancora le opere di Arnaldo Pomodoro in Giardino. E qui vediamo alcune delle fotografie dell'interno di Villa Meucci Severi. Punto nascite da ottobre è il pronto soccorso bimbi. Questo è un articolo interessante, una notizia bella per i pesaresi. Il punto nascite che è stato soppresso a Pesaro, perché tutto è stato accorpato poi nell'ospedale Santa Croce, e verrà ripristinato nel prossimo autunno. Lo ha annunciato ieri l'assessore Saltamartini. Saltamartini lo ha ufficializzato. Baiocchi esulta. Vitri e i Biancani chiedono ovviamente di più. Vitri e i Biancani sono esponenti dell'opposizione. L'annuncio della riapertura a ottobre del blocco materno-infantile a San Salvatore di Pesaro, che l'assessore Saltamartini aveva già anticipato durante l'inaugurazione del reparto di chirurgia, è stato ribadito anche ieri durante il Consiglio regionale. Una conferma che riceve il plauso del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Nicola Baiocchi, ma ovviamente il plauso anche di tutti i pesaresi. Vediamo ancora se ci sono altre notizie. Sì, per quanto riguarda Pian del Bruscolo, shopping di nascosto col telefono di mamma. È un ragazzino che ha giocato con i videogiochi, insomma facendo girare la bolletta del telefonino della sua mamma. E poi abbiamo un incidente, una falegnameria distrutta dal fuoco, incenere legnami e macchinari a Monbaroccio. E' probabilmente stato un cortocircuito, quasi certamente un cortocircuito, ad innescare le fiamme, ma si trattava di un edificio di vecchia costruzione. Ed ora diamo un'occhiata anche al Corriere Adriatico, sulla pagina di Fano. Vediamo che si parla di ordine pubblico. Di ordine pubblico rubano le auto parcheggiate nella via. Spunta il racket dei pezzi di ricambio. Attenzione! Tra Fano e Marotta si sono verificati diversi furti di auto lasciate di notte all'aperto. Sono ladri specializzati, veicoli portati a Cerignola, depredati e dati poi alle fiamme per estrarne i pezzi di ricambio. La città di Fano è nel mirino dei ladri d'auto. Alcuni furti sono stati messi a segno nelle ultime notti. Hanno rubato una Volkswagen e una Range Rover che erano parcheggiate nei pressi dei passeggi. E poi anche nel quartiere di San Martino. Segnalata anche la sottrazione di un Audi A1. I furti sono stati denunciati ovviamente al comando dei carabinieri e al commissariato della Polizia di Stato. è fondato il sospetto che abbia agito una banda specializzata nel commercio clandestino dei pezzi di ricambio. Una organizzazione criminale che colpisce lungo tutta la costa. Quelle aree di abbandono e degrado recentemente sono state anche segnalate in un servizio del Tg satirico di Canale 5, striscia la notizia. Si tratta appunto di aree dove vengono poi gettate, dove vengono parcheggiate le carcasse delle automobili da cui sono state tratte tutti gli elementi che possono essere smerciati nel commercio clandestino. Ieri è stato ricordato dall'Associazione Marinai d'Italia di Fano il fuciliere Filippo Montesi che morì a Beirut 39 anni fa. È stato ricordato con una deposizione ed una corona dall'oro del monumento che lo ricorda nei pressi del monumento dei caduti di via Nazario Sauro e poi in sua memoria è stata celebrata anche una funzione nella chiesa di San Giuseppe al Porto. Ma c'è una notizia in più perché il presidente dell'Associazione Marinai d'Italia l'ammiraglio Pio Bracco ha elevato un po' una protesta molto molto civile da parte dell'ammiraglio ma convalidata dal dato di fatto per i ritardi con cui vengono eseguiti i lavori di ripristino della passeggiata lungo il porto canale dalla Darsana Borghese fino al ponte della Ferrovia. Questi lavori hanno precluso l'uso della sede dell'Associazione non si possono fare le attività i convegni, le mostre che erano state programmate e il fermo dura da più di un anno insomma mi sembra un pochino troppo anche se c'è una causa contingente che l'ha determinato insomma si potrebbe andare un pochino più veloci perché poi i lavori così insomma lasciati a metà non sono una bella cosa a vedersi. E ieri poi è accaduto un tamponamento molto grave in A14 l'abbiamo visto prima sul resto del Carlino un'auto è andata a incoccare contro la parte posteriore di un tir di un camion che la precedeva un camion con un trasporto particolare e quindi una donna è rimasta così intrappolata nelle lamiere della propria autovettura ed è stata estratta dai vigili del fuoco con un'operazione veramente di carattere tecnico e incommiabile poi è stata portata al Torrette di Ancona. E poi il giornale ci annuncia il restyling di Viale Battisti è stato affidato l'incarico sarà la ditta 3TI Progetti Italia a occuparsi della messa in sicurezza della strada. Vi ricordo che oggi pomeriggio alle 15.30 si terranno i funerali nella chiesa di San Cristoforo a Fano di Roberta Curina la donna dei 57 anni deceduta improvvisamente nel pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce di Fano mentre veniva sottoposta ad esami diagnostici accusava dolore a un piede e ad una gamba e l'esame che è stato compiuto poi sulla Salma ha messo in evidenza problemi ai polmoni quindi problemi di carattere respiratorio. Barriera di un metro creata dalle onde domani ripartono i lavori per le scogliere davanti ai bagni Carlo e Gabriele in Sassonia ormai l'erosione ha veramente creato un dislivello lo vediamo qui nella fotografia di un'altezza di circa un metro tra il piano di spiaggia e la Battigia insomma l'azione del mare ha proceduto in maniera significativa per quanto riguarda l'erosione ed è ora di intervenire in maniera sollecita in maniera funzionale per preservare quest'ultima spiaggia della Sassonia prima e ultima spiaggia insomma bisogna vedere a che parte la Siguardi comunque è una delle più importanti appunto del lungomare fanese ancora biblioteca Passionei rinascita solo con il progetto Pelagaggia per il bando in scadenza il 31 marzo è stato ripescato l'elaborato del 2010 non ce n'è un altro insomma una bella istituzione questa che valorizza l'attrattiva di Fossombrone A Pergola alla scoperta delle origini nel progetto c'è anche questa città dei bronzi ne parla l'assessore Santelli insieme al direttore della Confcommercio Varotti l'assessore Santelli Sabrina Santelli aderisce al programma per i discendenti degli italiani emigrati comunque tutto un sistema tutto un programma di attività di iniziative per quanto riguarda la valorizzazione turistica appunto di Pergola viene evidenziato in questo articolo e poi ancora un incidente travolto mentre torna a casa in bicicletta paura per un giovane di 50 anni soccorso ma non è in pericolo di vita ebbene noi qui ci fermiamo Massimo Foghetti vi saluto abbiamo visto le notizie di oggi sui giornali vi do appuntamento a domani alle ore 7 per le notizie del giorno alle 20.30 di questa sera su Occhio alla Notizia di Fano TV è tutto a risentirci a barattare a a a $ Grazie a tutti.